Si torna in aula questa sera per una seduta programmata del Consiglio Comunale. Sarà inevitabile però il riferimento alla seduta di venerdì che ha sancito la bocciatura del bilancio consuntivo del 2018. E proprio su questo argomento per il quale il Consiglio Comunale rischia lo scioglimento si susseguono le prese di posizione. Lo scioglimento del Consiglio Comunale rappresenta una grave ferita per la città, dice il coordinatore del Partito Democratico, Salvo Adorno. «Nessuno può trarre vantaggio da una lotta politica privata del suo strumento principale di democrazia, il Consiglio Comunale». Una interlocuzione diretta col Commissario d'Acta, nominato dalla Regione alla richiesta di una legittima prologa alla scadenza del 13 novembre, può rappresentare il primo passo decisivo per raggiungere l'obiettivo di evitare lo scioglimento. Critica invece la posizione di Forza Italia, la bocciatura del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Comunale è di fatto e politicamente una dichiarazione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta che dovrebbero dimettersi e consentire alla città di eleggere nuovi amministratori, anche in considerazione delle molte ombre che gravano sul voto del 2018 e che sono al vaglio del Tar. Così afferma la parlamentare Stefania Prestigiacomo, che punta il dito anche contro la legge salva sindaci. Per la parlamentare Azzurra, probabilmente l'esito della decadenza del Consiglio Comunale è anche frutto di inesperienza di chi ha guidato la seduta, ma ciò non sposta il disastro politico della Giunta Italia e il danno che ne sta derivando alla città.